E' stato intitolato a Marco Pannella il Giardino dei Cedri, lo spazio verde annesso al palazzo della provincia in via Milli, giardino che fino all'apertura di oggi è sempre stato aperto solo occasionalmente per specifiche e rare manifestazioni. Una scelta quella del presidente della provincia di Teramo immediatamente appoggiata dal sindaco Brucchi e che con ogni probabilità avrebbe fatto piacere a Marco Pannella vedere il suo nome associato ad un luogo che da privato diventa pubblico, aperto a tutti, un vero bene comune. Noi avevamo già da mesi intenzione di restituire alla città di Teramo, alla provincia, questo spazio. La morte di Marco Pannella ci ha indotto a intitolarlo in maniera direi naturale. Marco Pannella era un uomo diciamo che stava in mezzo alla gente, che lavorava per la comunità e quindi intitolargli uno spazio che è chiuso e che viene restituito al pubblico diciamo è stata una scelta naturale. L'iniziativa di recupero di uno spazio bellissimo e che avevo avuto modo di vedere tempo fa in uno stato di degrado e di abbandono che faceva male al cuore e non solo quindi uno spazio recuperato per la città ma uno spazio recuperato intitolato a una grande personalità che da poco ci ha lasciati e che ha bisogno di essere ricordato in maniera concreta e questo è un primo gesto di concretezza. È un riconoscimento, è un modo anche per dire grazie quindi credo per la comunità terramane abruzzese e non solo naturalmente. Siamo molto contenti e credo che venendo qua le persone potranno avere l'occasione di avere un incentivo in più a conoscere, a sapere, a incuriosirsi sulla figura di Marco e sulle cose, le tante iniziative che ha fatto per il diritto, per lo stato di diritto e per i diritti umani. Questo giardino è un rafforzamento di questo lavoro di Marco del Partito Ricale, da lui ispirato che continua e speriamo che continuerà sempre di più.